Credo che qui siamo davanti a un'emergenza, sia dal punto di vista igienico-sanitario, perché le immagini credo siano inequivocabili. Questa zona è il territorio di barboni extracomunitari, anche italiani, che sono dediti all'alcol. Si è creata da tre anni questa montagna di bricchetti di vino che voi state inquadrando. E allora io mi chiedo dove sia la mano pubblica. Cioè io mi chiedo dove sia la vigilanza, dove sia il controllo del territorio, perché qui intorno, se lei si guarda intorno, vede solo rifiuti e robaccia. È inaccettabile che una città civile come Pescara possa avere un angolo così degradato. Parliamo di decoro pubblico, ma nelle ore serali anche di problemi di ordine pubblico, perché spesso qui ci sono persone che minacciano anche i passanti. Come è accaduto a lei ieri proprio? Ieri stavo facendo una foto col mio telefonino, perché sono stato chiamato da alcuni residenti, mi sono reso conto che erano immagini sicuramente raccapriccianti, e intorno a me c'erano delle persone che già erano in stato di ebbrezza, che mi hanno minacciato e mi hanno chiesto perché facessi le foto. Quindi è emblematico che qui praticamente c'è un problema anche di sicurezza pubblica. Tra Borrelli parliamo di questa, quest'area alle nostre spalle, è un'area demaniale, l'area dell'ex scuola Mazzini, di proprietà comunque del comune, che è stata messa anche in vendita tra l'altro. Sì, io ho parlato con l'assessore Adel Chisulpizio, l'assessore della Polizia Municipale, che ha subito verificato la proprietà di quest'area, è un'area demaniale che è stata messa anche in vendita, ma che comunque c'è una responsabilità diretta del comune di Pescara che deve garantire l'igiene di una strada.